Ebbene, finalmente ci siamo. Di questa rubrica ve ne avevo già parlato l'anno scorso e ora ecco giungere il primo episodio, un'altra occasione per fare un po' di ordine in un universo videoludico sempre più ricco e difficile da seguire senza perdersi. Perché sì ragazzi miei, oggigiorno ogni mese vede l'uscita di molti più titoli rispetto al passato portandosi dietro giochi di qualità capaci di far piangere il nostro portafogli, quindi cavolo, approfittiamone! Le Speranze Videoludiche è una rubrica nella quale parlarvi, in quei mesi particolarmente ricchi di uscite, di tutti quei giochi che per un qualche motivo hanno saputo destare il mio interesse. Opere che per un motivo o per l'altro hanno saputo mostrarsi con forza riuscendo a incuriosirmi. Premetto quindi fin da subito che qui non vedrete tutti i giochi in uscita a maggio. Dopotutto ragazzi, cazzo male di fare il mega elenco che potreste tranquillamente trovare in un qualsiasi sito specializzato. Bensì solo quelli che sono effettivamente desideroso di provare con mano, e se mi conoscete un minimo, saprete che io sono uno di quei videogiocatori a cui interessa un sacco di roba. Senza ulteriori indugi, lanciamoci quindi nella mischia. Le cose si fanno interessanti già a partire dal 2 maggio, data in cui uscirà Close to the Sun, titolo sviluppato dalla software house italiana Stormy Natty Cup. Parliamo di un titolo che ormai ci portiamo dietro da diversi anni, ma che fin dal suo primissimo trailer ha saputo conquistarmi, e questo in particolar modo per un motivo molto semplice e molto diretto, ovvero per il fascino in pieno stile Bioshock che il titolo emana, non solo in termini grafici, ma anche narrativi. L'avventura ci vedrà infatti in un passato alternativo tra gli anni 20 e 30, dove le invenzioni di Nikola Tesla hanno plasmato l'umanità grazie a un'evoluzione tecnologica ben più fantascientifica di quella vissuta realmente nel secolo scorso. Le grandi opportunità dell'epoca hanno però portato anche a dei limiti dettati dal volere politico, filosofico o religioso, vincoli che spensero alcuni a creare un'immensa nave, una vera e propria arca in cui le più grandi menti del pianeta avrebbero potuto sfruttare le proprie capacità in piena libertà e senza limiti, un paradiso utopistico dove tutti avrebbero potuto vivere una vita giusta e la madonna, ma qui ci scappa la denuncia di Chukai. Sì, la premessa è identica a quella di Bioshock, due gocce d'acqua, ma onestamente la cosa non mi dispiace, anzi, il mood, i toni, lo stile, tutto ciò che ho visto ha saputo incuriosirmi e se la narrativa dovesse rivelarsi effettivamente interrogante, beh, saremmo a cavallo. Nel gioco impersoneremo i panni di Ross Archer, giunta sulla nave per esplicita richiesta di nostra sorella, scienziata precedentemente selezionata per l'arca, ma una volta arrivati sul luogo, i toni cambiano. La nave è a pezzi, i cadaveri sono sparsi ovunque e strane creature si aggirano in ogni dove, pronti a divorarci. Close to the sun è un survival horror in stile walking simulator, non si può combattere, siamo davanti a un titolo più all'amnesia per farvi capire. Dovremmo muoverci per la nave, cercando di comprendere cosa sia successo, completando enigmi e dandoci la gamba quando incontreremo qualche avversario. Una classica struttura da indie game, insomma, ma una struttura ludica che se gestita con attenzione potrebbe regalare grandi emozioni. E Cassarola, io ci voglio credere, di walking simulator che mi hanno conquistato ce ne sono stati parecchi, e spero di cuore che anche questo close to the sun riesca a fare lo stesso. Sempre il 2 maggio uscirà anche Giga Wraker Art, titolo che ho scoperto per puro caso e di cui mi sono immediatamente innamorato, ma mai mi sarei aspettato che dietro tale opera ci potessero essere i ragazzi di Game Freak. Sai no, tra un Pokémon e l'altro ci vuole anche una sana dose di... di follia. Giga Wraker Art si identifica come un platform BD in cui vestiremo i panni di Reika, una ragazza rimasta ferita nel pieno di un attacco alieno durante il quale una nostra amica è stata rapita. Tornati in forma e con un braccio robotico attaccato, dovremo quindi combattere con le unghie e con i denti per salvare l'umanità e la nostra compagna, il tutto vestiti con abiti scolareschi e minigonna. Grazie Giappone, non deludi mai. L'avventura sarà tutta incentrata sul nostro braccio bionico, il quale potrà raccogliere i detriti sparsi per la mappa per utilizzarli come armi o al fine di completare vari enigmi. Si sconfiggono nemici, si avanzano in intricati stage ricchi di segreti, si affrontano boss e tutto il resto, c'è il pacchetto completo. Giga Wraker Art sembra un titolo davvero carismatico, il character design mi ha conquistato e ludicamente parlando appare reattivo e divertente. Unico dubbio che mi perplime riguarda la protagonista, la quale nelle fasi più concitate tende a scomparire nello scenario, la si perde di vista e se il problema già si sente su un PC o una TV, immaginate cosa potrebbe accadere giocando su Switch. Fatto sta che l'opera sembra promettente e le speranze a riguardo sono davvero ma davvero parecchie. Peccato solo che nel mondo non sembri conoscerlo nessuno, ci fosse una singola persona che ne ha parlato, seriamente quanti di voi lo conoscevano? Se arriviamo a 10 è già grasso che cola. Balzo temporale e giungiamo al 14 marzo. Santi Dio onnipotente. Di tanto in tanto capita di ritrovarsi davanti a titoli che in un primo momento non ti convincono, ma più vai avanti, più lo sviluppo continua, più escono trailer e gameplay a riguardo ed ecco che quel gioco che inizialmente non ti convinceva si tramuta in un'opera che la madonna sembra una figata. Questo è quanto è avvenuto con A Plague Tale Innocence, titolo sviluppato dai ragazzi di Asobo Studio. E cos'altro hanno sviluppato i ragazzi di Asobo Studio? A quanto pare gli Asobo Studio sono conosciuti per aver sviluppato i videogiochi di Toy Story 3 e Volley, contribuendo inoltre anche allo sviluppo di The Crew. Meguglioni. Inizialmente il gioco non mi aveva convinto, più che altro perché dai primi trailer non capivo dove volesse andare a parare, ma ora che il tutto ha preso forma ammetto di essere davvero speranzosa al riguardo. L'opera ci porterà nel pieno della guerra dei cent'anni, tra il 1300 e il 1400, dove una ragazzina di nome amici sta scappando con il fratellino dall'inquisizione che li sta cercando, una situazione pessima che andrà aggravandosi per colpa di una malattia del sangue che si sta diffondendo in tutta la Francia. Il compito che ci verrà assegnato sarà quindi quello di salvare il nostro fratellino cercando al contempo di trovare una risposta alle tante domande che ruotano intorno alla malattia, la quale per un qualche strano motivo sembra essere legato con la nostra famiglia. È importante capire fin da subito che A Plague Tale Innocence è uno stealth game. Per la maggior parte del tempo dovremo cercare di non farci notare superando i diversi nemici che incontreremo sfruttando l'astuzia. Anche in questo caso dovremo completare enigmi, sfruttare l'ambiente circostante e avanzare nell'avventura che sembrerebbe puntare molto sulla narrativa, il tutto ovviamente senza farsi catturare. Una premessa ludica semplice insomma, ma che andrà facendosi ben più interessante grazie alla presenza dei ratti, i veri protagonisti dell'avventura. L'opera ci porterà infatti a dover anche muoverci in livelli che spesso e volentieri saranno zeppi di ratti, migliaia di roditori che attaccheranno qualsiasi cosa dovesse trovarsi troppo lontana da una fonte di luce, animalacce che dovremo evitare e sfruttare al contempo. Sti bastardi sono la ciliegina sulla torta, non solo perché rendono il mood generale incredibilmente teso e asfissiante, ma anche perché la loro presenza potrà arricchire parecchio il gameplay che altrimenti si sarebbe potuto rivelare alquanto ridondante. Resto dubbioso sulla questione del fratellino, quella paura di dover far da vale a un personaggio che potrebbe finire con l'appesantire tutta la struttura ludica. Dopotutto di esempi simili ne abbiamo visti parecchi. La sostanza però non sembra mancare e quanto ho visto fino ad ora mi fa ben sperare. Peccato solo che il gioco dovrà vedersela con un altro peso da 90, visto che lo stesso giorno, il 14 maggio, uscirà anche Rage 2. E cazzo ragazzi, in questo caso le sensazioni che provo a riguardo e di cui già vi ho parlato in passato sono abbastanza contrapposte. Il primo Rage per me non fu una delusione, ma sicuramente si rivelò un enorme spreco di potenziale. Il gioco presentava buone idee, delle belle scelte di game design e un ottimo gunplay. Peccato solo che quelle belle idee non siano state minimamente sfruttate, il modo di gioco si rivelò terribilmente vuoto, la sceneggiatura fu una chiavica e diverse meccaniche si rivelarono malamente implementate e imprimissi i veicoli. Detto questo, Rage 2. Cambio totale. Se i toni del primo Rage erano oscuri, tenebrosi e macabri, questo secondo capitolo diventa un'esplosione di colori, battutine, esagerazioni e proiettili a ogni angolo, un cambiamento che onestamente mi è piaciuto. Il titolo appare divertente e variegato, pieno zeppo di cose da fare, con una sceneggiatura molto più interessante, un'ambientazione decisamente più piacevole da esplorare e ricco di idee che però stavolta paiono essere state sviluppate con cognizione di causa. C'è solo un problema. Come probabilmente saprete, Rage 2 è stato sviluppato da due diversi team, ID Software e Avalance Studios. Il primo si è occupato soprattutto del gameplay nudo e crudo, armi, fill in generale, sistema di movimento, abilità, più lo si guarda e più sembra di star vedendo uno spin-off di Doom. E anche in questo caso, la cosa mi piace assai. Poi arrivano i Avalance Studios, che si sono invece occupati dopo un board, veicoli e sistema di guida. Ed è qui che storge il problema. Purtroppo, gli Avalance hanno sempre avuto un grandissimo difetto. Realizzano enormi mappe liberamente esplorabili, che poi però non sanno arricchire degnamente e che quindi finiscono con l'annoiare abbastanza in fretta. Vedasi in Just Cause 4, giusto per fare un esempio recente. La paura è che quindi la cosa possa ripresentarsi anche questa volta, con un Rage 2 enorme, ma che a lungo andare potrebbe rivelarsi incredibilmente monotono. Onestamente resto parecchio speranzoso, quanto visto ha saputo convincermi. Tutta la sezione gameplay sarà sicuramente memorabile, le fasi di guida paiono divertenti e generalmente di cose da fare sembra che ne saranno in abbondanza, ma la paura comunque rimane. Incrociamo le dita e speriamo bene. Diciamo che dopo il disastro che Fallout 76 si è rivelato essere, Bethesda ha davvero bisogno di riconquistare la sua utenza. Aspettiamo, speriamo, vediamo e preghiamo. 21 maggio, giornata all'insegna dell'inaspettato, della novità. Esce Observation, titolo indie che punta tutto su un'idea tanto fuori dal comune quanto geniale. Il team di sviluppo no-code, con il contributo di Devolver Digital, ha infatti voluto creare il suo personale 2001 odissea nello spazio. I rimandi sono evidenti e anche parecchio apprezzati. All'interno di questa stazione spaziale, malfunzionamenti e problemi vari hanno messo in pericolo l'astronauta Emma Fisher, la quale non riesce più neanche a contattare Houston. In questa situazione di merda voi però non sarete Emma, bensì Sam, l'intelligenza artificiale della nave spaziale. Voi sarete la stazione spaziale e il vostro compito sarà quello di aiutare Emma a tornare a casa, anche se strani e imprevedibili avvenimenti sembrano star succedendo dietro le quinte. Del gioco in realtà non ho poi molto da dire, anche perché a voler essere onesti, si è visto davvero poco a riguardo, ma quel poco è comunque bastato per farmene innamorare, quantomeno del concept, una ventata d'aria fresca che punta a offrire al giocatore un nuovo punto di vista, una prospettiva diversa da ciò a cui i libri, i film e i videogiochi ci hanno abituati. Le domande restano sempre quelle, come verrà gestita la fase ludica? Come potremo interagire con Emma? Quanta libertà verrà effettivamente lasciata al giocatore? Il punto interrogativo resta insomma tutto rivolto nei confronti del gameplay, che ancora adesso fatico a immaginare vista la tipica idea di fondo, ma se il team di sviluppo dovesse essere riuscito nel suo intento, quello che ci si parerà innanzi potrebbe essere uno di quei titoli nei confronti dei quali risulta impossibile non dare almeno una chance. E ora? Realtà virtuale! Se siete curiosi, la risposta è sì. Il PlayStation VR continua a regalarmi grandi emozioni. I particolari obiettivi irraggiungibili con la realtà virtuale hanno portato alla luce opere diverse dal solito e rivelate si capaci di regalarmi emozioni differenti da quelle a cui il media videoludico mi aveva abituato. E il 28 maggio sarà l'occasione perfetta per arricchire ancora di più la propria ludoteca. Questa volta con Blood The Truth. Spara tutto in prima persona sviluppato da ragazzi di Sony London Studio. Lo stesso team che lavorò a quel London East che seppe farmi battere il cuore. Se London East era però solo una demo questa volta siamo davanti a un gioco a tutto tondo lì dove impersoneremo il classico accento infiltrato pronto a distruggere interi organizzazioni criminali e a massacrare dozzine di scagnozzi tra esplosioni e proiettili. Il gioco funzionerà con il move e vi darà la possibilità di muovervi in libertà quindi si mira, si spara, ci si copre e così via. Funzioni semplici quando si usa un pad ma è estremamente più divertente da compiere quando si deve effettivamente mirare quando per nascondersi sei tu che ti devi mettere in ginocchio sporgendoti. Quello di Sony London Studio non sarà un gioco diverso dal solito o innovativo capace di rivoluzionare il genere anzi sarà molto classico nelle sue caratteristiche ludiche ma utilizzando il caschetto di Sony già so che mi ci divertirò come un coglione. Allo stato attuale gli unici quesiti che ancora mi porto dietro riguardano l'effettiva durata della campagna è il possibile rischio motion sickness sempre in agguato e pronto a rovinarci la festa. Il team ha dichiarato di aver lavorato parecchio proprio per evitare che il nostro stomaco possa ribaltarsi ma non ci metterei la mano sul fuoco aspettiamo e speriamo. A chiudere però la nostra lista ci pensa però Liars of Fear 2 in uscita sempre il 28 maggio qualcuno di voi sapeva che doveva uscire questo mese io onestamente non ne avevo idea. Con Liars of Fear 2 le cose si fanno decisamente interessanti visto che il primo capitolo del brand mi fece parecchio cagare. Bella atmosfera artisticamente splendido ma completamente fallimentare nel suo voler far paura. Un horror basato unicamente su The Jumpscare mi rompe i coglioni in fretta e Liars of Fear era proprio questo un susseguirsi The Jumpscare che già dopo 30 minuti mi avevano scassato gli zebedei. Il problema è che in Liars of Fear non vi erano reali minacce non c'erano pericoli un survival horror in cui non potevi morire e quando ti accorgevi che il proverbiale mostro pronto a farti a pezzi non esisteva a quel punto la tensione andava completamente a farsi fottere. In questo secondo capitolo ci ritroveremo su una nave apparentemente abbandonata e il gioco nelle sue basi appare identico al suo fratello maggiore. Ancora una volta saremo davanti a una sorta di walking simulator dove Jumpscare più o meno ben inseriti andranno presentandosi di volta in volta per cercare di farci prendere un colpo. La qualità sulla narrativa è ancora tutta da vedere ma almeno stile, mood comparto artistico e atmosfera generale appaiono già da ora incredibili come era facile immaginare ma resta il dubbio sull'effettiva capacità del gioco di spaventare. Detta in soldoni se ancora una volta dovessimo ritrovarci con un gioco tutto Jumpscare e poca sostanza la vedo parecchio nera. Certo ci spero voglio crederci in uno dei trailer si vede anche una creatura che potrebbe essere un effettivo nemico capace di metterci sotto stress il titolo pare interessante so già che lo comprerò ma il rischio di ritrovarmi con l'ennesimo horror privo di mordente si fa sentire chi vivrà vedrà. Ed è così che si conclude questo primo video delle speranze videoludiche rubrica pensata per arricchire ancora di più il mio canale youtube preparatevi perché conoscendo la mia fortuna tutti i giochi di cui vi ho parlato oggi saranno un disastro dietro l'altro ragazzi alla prossima